Buongiorno a tutti, lago di Misurina, 1750 metri d'altitudine, sono quasi le 10 di mattina e ci sono 7 gradi alle 10 di mattina. Sono andato in un bar e il proprietario mi ha detto che questa mattina c'erano solo due gradi, quindi non vi dico altro, due gradi in pieno agosto. Questa qua è l'estate a Misurina, ovviamente felto a giacca e si va avanti, il mio si respira un po'. I cammini della casa che stanno tutti fumando, hanno tutti agito il fuoco. Grazie a tutti.